giù giù, giù, giù giù, giù, giù giù, giù, giù giù, giù giù, giù, giù giù, giù, i puniti laterali giù a destra così giù a destra 그대로 prenditi una mano sinistra con la mano destra e giù a destra giù, giù á destra dai, fila cioè dinocchè vicino a sua gang così, tira è così, così, prendi la metodo guardia tira, tira, tira adesso tira, tira con le gambe e tira con le mani vai le gambe, tira guarda su guarda dietro la schiera dietro il suo collo guarda in aria ti prendi il collo dai, piano piano, piano piano, lavora sali su, Lello, sali su e tira guarda che lo fai tira una gamba, esci Lello, esci con quella gamba esci, chiudi le gambe, Lello esci con la testa, Diego eh, donna bello, ieri, io voglio fare che se la riposa lo faccio non continuare a tirarlo se non c'è fermi spettacolo spettacolo mezza guarda prima, no, no, no giù, Lello, vai giù, qui, sopra quella testa eravata, eravata 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 dentro questa erano cioè, e poi fuori no ok prendi la testa e si era bravo, bravo bravo, bravo eh, guarda che c'è ma giore, cazzo a piedi, a piedi, a piedi, a piedi, a piedi a piedi, a piedi, a piedi a piedi, a piedi, a piedi a piedi, a piedi a piedi vai su, vai su ok, prendi con tutti e due le gambe spira la testa appoggia la braccia appoggia la braccia e uno ne dà dai, dai dai Leggo fanno male lì le braccia nernちゃん nernちゃん vicino al forming vai per vanna chiuso hello 2 1 15 secondi ancora 15 secondi 4 3 2 1 fine 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 andata